Giovedì 14 gennaio, ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV, benvenuti alla nostra segna stampa del mattino. Occhio ai giornali e sono le 7, siamo in diretta. Partiamo dal santo, poi il tempo e i giornali di oggi. Oggi è San Felice Danola, il sole sorgerà alle 7.43, tramonterà alle 16.57. Andiamo subito a vedere trebimeteo.com con la notizia in apertura. Vedete, i prossimi giorni venti gelidi dalla Russia, in parte anche sull'Italia, con delle conseguenze. Si intensifica il freddo da giovedì e dunque avremo possibilità anche di qualche fiocchetto, ma nulla di che. Intanto la protezione civile delle Marche per oggi prevede un cielo sereno, poco nuvoloso. Aumento delle nuvole lungo la fascia costiera dal pomeriggio. Venerdì 15 lo stesso, avremo cielo sereno, anzi più che altro nuvoloso, ma senza precipitazioni. Sabato 16 ancora cielo poco nuvoloso, con al primo mattino occasionali e debolissime nevicate sui settori montani, centro-meridionali, ma subito in rapido esaurimento. Mentre salvo deboli precipitazioni durante la notte tra domenica e lunedì, la situazione per i prossimi giorni rimane caratterizzata da condizioni di stabilità. Allora, subito i titoli, subito le pagine dei quotidiani, come sempre Corriere Adriatico, edizione di Pesaro Urbino, il giornale delle Marche, poi il resto del Carlino. Allora, il titolo d'apertura del Corriere di oggi è Arancioni da domenica. Le restrizioni del nuovo decreto in vigore dal 17 lasciano poche speranze sulla prossima colorazione. Marche penalizzate dai focolai in tre ospedali e dai ricoveri ancora alti. Oggi l'incontro con il Governo. Verrebbe da dire, c'è ancora il Governo, vista la crisi e quello che sta succedendo? Sì. Sanità, 8 mila domande per 52 posti, concorsone per operatore socio-sanitario, poi di spalla il caso rifiuti, piani in ritardo da 5 anni, Aguzzi dice basta, riscrivo tutto sui piani provinciali dei rifiuti. Poi le notizie in breve, sempre dalla prima, i sindacati di Pesaro dicono che è una bomba quella del lavoro, pronta a scoppiare. I ristoranti aperti a cena, domani il rebus della sfida al DPCM, poi d'accoglio al Metauro, a piccole fiamme agli scuolabus, fuoco per vendetta. Di taglio basso sempre dal Corriere Adriatico, stroncato dal coronavirus il vescovo del Sorriso Buono, Monsignor Cecchini è morto ieri a Senigallia, domani l'esequia in cattedrale con diretta su Fano TV. Il resto del canino di Pesaro, mortalità da guerra, il titolo della fotonotizia di oggi, in città 1488 decessi nel 2020, il 51% in più della media. Ristoratori, scontro sui disobbedienti, il presidente provinciale della categoria dice siamo in ginocchio, ma questa protesta è un boomerang. Da colli al Metauro, scuolabus incendiati, trovato il colpevole, è un ex dipendente. Poi nelle Marche, arrivati i vaccini Moderna, vaccini statunitensi, 1500 dosi. Ma il fenomeno dell'influenza, l'influenza che fine ha fatto, i malati sono cinque volte in meno. E poi ricci non molla, tamponi a scuola, facciamoli. Addio a Norris, la prima italiana a esibirsi nell'ex Unione Sovietica, la cantante De Stefani è morta per sempre complicazioni dovute al coronavirus. Poi dalla prima del Carlino, cooperativa WL, la formula vincente, alle Final Eight, anche senza super realizzatori. E poi il calcio di Serie C, di Sabatino, dal Fano alla Viss, voglia di rivalsa. Ieri il primo allenamento in bianco rosso, Alma, gentile c'è, obiettivo Alvaro Montero. Chiesa dunque in lutto, il Covid si porta via il Vescovo Emerito Mario Cecchini, titolo del Corriere di Oggi. Si è spento all'Opera Pia Mastai Ferretti di Senigallia, pochi giorni dal suo 88esimo compleanno. Era nato nel piccolo paese di Piticchio, una frazione del comune di Arcevia. Era entrato poi giovanissimo nel seminario di Senigallia, ottenendo l'ordinazione sacerdotale il 16 marzo del 1958. E Monsignor Mario Cecchini, che in tanti lo ricordano ancora nella città di Fano, avrebbe compiuto appunto 88 anni il 25 gennaio prossimo. Già in passato aveva sofferto di diverse patologie, dovendo rinunciare poi a proseguire il suo ministero alla guida della Chiesa Fanese all'età di 65 anni. L'8 settembre del 1998, quando divenne appunto Vescovo Emerito. Scrive Foghetti questa mattina sul Corriere Adriatico. Il Corriere giustamente ricorda anche, dando così la possibilità ai suoi elettori e a tutti i fedeli che non possono e non potranno andare venerdì alle 15 al Duomo di Senigallia per le esequie in presenza. Dunque potranno seguirle attraverso la nostra emittente, quindi su Fano TV, in diretta, dalle 15 appunto trasmetteremo il funerale di Monsignor Cecchini. Anche il Carlino di Senigallia tratta questa notizia in apertura. Contagiato, morto Monsignor Cecchini, era ospite dell'opera Pia Mastai Ferretti, dove ha contratto il virus. Il Vescovo Emerito di Fano era nato 88 anni fa ad Arcevia. Lavorò intensamente per l'unificazione delle quattro diocesi di Fossombrone, Cagli e Pergola con quella di Fano. Vole fortemente e inaugurò anche il santuario di San Giuseppe in Spicello. Colpito da Ictus ha continuato poi a lavorare per la diocesi fanese senza particolari problemi. E insomma, questo è il racconto, la figura del Vescovo Emerito di Fano. E poi, sempre dalla pagina del resto del Carlino, ospedale, l'occupazione è al limite. E allora, adesso, sperando che il nostro Angelo Custode ci dia una mano, io ho il touch screen... Ecco, infatti, questo ho appena detto, si è dato da fare. Si è sbloccato e quindi torniamo di taglio basso a vedere la prima pagina sempre del Carlino di Senigaglia per dirvi dello screening. Gli screening sono stati effettuati, 6.500 test in tre giorni. Giornata nera, invece, sulle strade fanesi. Ieri due incidenti con cinque feriti. Grave una donna investita da un furgone. Tamponamento a tre in ospedale. Anche un bimbo. Qui ci sono, sulla pagina di oggi del Corriere, le fotografie con questo primo tamponamento ieri mattina nella zona sulla Statale 16 Adriatica, all'altezza di Gimarra. E poi l'investimento avvenuto in Via Roma. Tutte le dinamiche nell'articolo di Osvaldo Scatassi questa mattina. Poi chiude lo screening e sempre fanno 17.703 i tamponi rapidi e 129 le persone positive appunto emerse da questi controlli con i test rapidi. Poi ricorderete quella notizia di cui ci eravamo occupati anche noi nel telegiornale, ovviamente, degli scuolabus a calcinelli che andarono a fuoco. Un rogo del 20 maggio 2019 che mandò incenere cinque pulmini della ditta Re Manfredi di Foggia. E adesso viene fuori che a piccare le fiamme è stato l'ex autista, il quale dice l'ho fatto per vendetta, l'ho fatto per ripicca. Non accettava di essere stato licenziato, così ha incenerito quasi tutto il parco mezzi di questa ditta di Foggia che garantisce il servizio di scuolabus a scuolabus accoglie al metauro. Era la notte del 20 maggio 2019, bruciarono cinque pulmini e ne rimarsero danneggiati altri otto. Poi la cronaca anche qui dal carino di Fano, travolta da un furgone mentre attraversa la strada un incidente in via Roma, grave una donna di 41 anni e poi sotto carambola di auto per un sorpasso azzardato, paura sulla statale coinvolto anche un neonato. La polizia locale sta cercando adesso l'Opel Zafira che ha provocato il sinistro. scuolabus distrutti, dalle fiamme identificato l'autore dell'incendio, dal Val Cesano l'indagato avrebbe messo in atto la vendetta per dei rancori personali. Mentre a Colle al Metauro lo screening sarà al bocciodromo. Asur e Comune di Colle al Metauro e Monte Felcino hanno scelto il bocciodromo di Tavernelle per ospitare gli screening di massa mediante i tamponi rapidi. Gli orari da sabato 16 gennaio a mercoledì 20, la mattina dalle 8 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 19, mentre giovedì 21 solo il mattino dalle 8 alle 13. Ricordiamo ai residenti di Colle al Metauro e di Monte Felcino che non ci si dovrà presentare oltre le 12.45 del mattino e oltre le 18.45 del pomeriggio. Non è necessaria, lo ricordiamo, la prenotazione. Ora c'è anche la questione che bolle in pentola per la giornata di domani, quella iniziativa di Umberto Carriera. Io apro quella protesta dei ristoratori che da Pesero si è allargata un po' in tutta Italia, protesta boomerang, noi restiamo chiusi, dice Mario Di Remigio che è presidente dei ristoratori di Pesero, dice la categoria è in ginocchio, però è assurdo rischiare sanzioni e provvedimenti. Dunque noi siamo per la legalità. Mentre Umberto Carriera, il promotore, prova ancora a fare il capopopolo, pioggia di adesioni, dice lui, ma molti sono indecisi. A Pesero abbiamo già 47 adesioni, tra bar e ristoranti, altri 150 ci stanno ancora pensando, ma in linea di massima condividono il nostro pensiero. Sono questi i numeri che dà appunto Umberto Carriera, uno dei promotori dell'iniziativa Io apro 1501, che ha già incontrato diversi operatori del settore, che in questi giorni stanno decidendo se aderire o meno alla protesta della disobbedienza. E questa è la notizia che troverete sul resto del Carlino. Mentre da Cagli, la cronaca, l'automobile sbanda Giovane Soccorso, è accaduto sulla provinciale che da Cagli va a Pergola, tratto chiuso per permettere gli interventi sul posto. Mentre qui apriamo a questo punto tutte le pagine dedicate al Covid, non solo Pfizer è arrivato anche il vaccino Moderna, stoccate da Pesero 1500 dosi, Saltamartini dice conservazione più semplice, si possono somministrare dunque anche a casa. Perché ovviamente di buono hanno questi vaccini firmati Moderna, americani, che devono essere custoditi, non devono essere custoditi a meno 20 gradi sotto zero, quindi, dice Saltamartini, comportano una conservazione più semplice che facilitano anche la somministrazione alle categorie a rischio, quindi anche le persone anziane fragili, mediante l'inoculazione a livello domiciliare, quindi a casa tramite medici di famiglia. Questa, insomma, non è poco. Allora, andiamo adesso invece a vedere, c'è stato un salto, in realtà questa pagina deve essere prima, ma tant'è, insomma. Io apro, questo è il Corriere Adriatico, io apro Rebus Adesioni sui ristoratori ribelli che sfideranno la legge, questo è il Corriere Adriatico. Sui canali ufficiali ne sono stati tracciati 4 o 5, ma Carriera dice siamo più di 100, poi ci sono alcune linee guida per le persone che vogliono prenotarsi. In sostanza, per chi vuole sfidare un po' il tutto, l'invito è di chiamare i ristoranti e chiedere se sono aperti. Mentre Ristori Italia dice di senso speculativo e solo fine a se stesso. Dunque, anche la categoria è divisa in due, sanzioni e salute, i clienti non devono mai rischiare, ConfCommercio per dire miggio a rivendicazioni solo nel solco della legalità. Ora c'è anche il problema, e partiamo da qui, degli effetti collaterali di questa chiusura, del lockdown e di tutto quello che ne consegue, vedremo tra poco anche sempre dai giornali come l'aumento di antidepressivi, ansiolitici in farmacia è aumentato, cioè non si vende più in sostanza la tachipirina in questo periodo perché l'influenza pare sparita, ma si vendono in realtà, e l'aumento è del 40%, stando a un farmacista di Pesero, del 40% della vendita di ansiolitici e di antidepressivi. Insomma, questa è un po' la situazione, ma sul fronte questo magari degli adulti, quelli più giovani invece non vanno a comprare gli antidepressivi, si sfogano in maniera diversa, come? Facendo liti e risse così. E questo è causa dell'isolamento da Covid, che è, secondo il garante nobile, una miccia pericolosa. E dunque, garante che convoca d'urgenza ad Ancona l'osservatorio sul disagio adolescenziale, gli episodi violenti di questi giorni fanno affiorare un'emergenza sociale. E poi c'è l'intervista a Patrizia Giunto, direttrice del Servizio Sociale Minorenne, la quale dice che bisogna accompagnare i ragazzi verso la normalità. Allora, adesso apriamo, come dicevo, le pagine del Covid, dicendo che cosa? Dicendo quello che vi stiamo dicendo ormai da qualche giorno, ovvero che le marche rischiano grosso, rischiano verso l'arancione. Oggi c'è il vertice con il Governo, nuove restrizioni rischiano la fascia intermedia con il decreto che dovrebbe entrare in vigore domenica. La novità, in zona gialla però aprono i musei. Dubbi sull'asporto per i locali favorisce gli assembramenti. Questo è lo schema che presenta il Corriere questa mattina, verso il nuovo DPCM. Domenica 17 entrano in vigore dunque le nuove regole. 30 aprile è la data ipotizzata per la fine di questa emergenza. Allora, le zone ancora in discussione. Vedete, appare anche questa nuova colorazione, che è la zona gialla. Per entrare in zona bianca, per entrare in zona bianca, chiaramente ci vogliono dei numeri che al momento sono lontani e lontani. 50 contagi ogni 100.000 abitanti. È una classificazione di basso rischio. Se si entra in zona bianca, chiaramente sono abolite tutte le restrizioni, ha zerato il coprifuoco, obbligo comunque di mascherine e distanziamento, ma le scuole poi saranno tutte in presenza. Questo in caso di zona bianca. Noi in questo momento siamo in zona gialla. Forse lo saremo ancora per la prossima settimana, anche se il Corriere, secondo le notizie che ha, probabilmente invece saremo in zona arancione. Che cosa si farà in zona arancione? Ce lo ricordiamo. Spostamenti solo nel Comune. Le visite saranno consentite come nella zona gialla. Saranno aperti i negozi, ma chiusi i locali. Dai comuni fino a 5.000 abitanti ci si può spostare per un raggio di 30 km. I primi 1.500 vaccini moderna sono arrivati. Saltamartini dice li utilizzeremo per la profilassi dei più fragili. L'assessore e i vaccinati fuori lista sono personale in sostegno ai sanitari. Quindi non ci sono i cosiddetti furbetti. Gli ospedali e le case di riposo sono al limite. Invece una task force militare con medici e infermieri. Da oggi arriva il sostegno alle residenze sanitarie di Sarnano e Tolentino. Monitorato il nosocomio di Urbino. In allerta pure per il murri di Fermo. E poi c'è un'intervista che vi segnalo. A pagina 5 del Corriere Adriatico di questa mattina. Un'intervista che Marina Angeli ha realizzato con il dottor Tempesta. Michele Tempesta, primario del servizio di anestesia e rianimazione a Marche Nord. Quindi a Pesero. Allora, lui fa un po' la situazione, spiega un po' la situazione in questi giorni. Ad oggi abbiamo 25 ricoverati in terapia intensiva con un picco di 28 nei giorni scorsi. Ma i ricoveri stanno scendendo e stanno, scusate, crescendo in generale. Dopo la tregua estiva siamo partiti da ottobre con parecchi pazienti che provenivano dal sud delle Marche. Lo ricorderete, a settembre, ottobre, insomma, si parlava di nuovo di una recrudescenza, di un aumento delle terapie intensive. Però non tanto autottone, ma provenienti dal sud delle Marche. E le città più colpite, ricorderete, furono proprio macerate in particolare e anche fermo. E secondo lei, la domanda di Martina, appunto, Marina Angel, dunque, secondo lei, tempesta. Pesero è di nuovo nell'occhio del ciclone come fu durante la prima ondata? E lui dice perché, secondo lei, Pesero è finita di nuovo così nella classifica nera dei contagi? Ammetto, dice lui, che non ho idea. Nella prima ondata abbiamo cercato la ragione nel Final Eight di Basket. Qui si parla di quell'iniziativa di basket, portò tantissime persone al palazzetto dello sport o al palasport. Ora, davvero, dice tempesta, io non saprei, non saprei cosa dire. E poi consideri che di 25 ricoveri in terapia intensiva, 24 sono intubati. Ecco, l'impatto della seconda ondata sugli ospedali è paragonabile a quello della prima ondata? E allora la risposta qui è il picco della prima ondata non è più stato raggiunto. Abbiamo avuto delle settimane terrificanti davvero, però anche la seconda ondata ha comportato molti ricoveri. E così da ottobre e probabilmente andremo avanti così fino a maggio. E quindi, diciamo, è lunga questa cosa. Ora abbiamo 25 ricoverati in terapia intensiva e se arriva la terza ondata saremo comunque, dice lui, saremo pronti. Nel mio reparto gli anestesisti si sono tutti vaccinati, per quanto riguarda la campagna vaccinale anti-Covid. E poi ancora sull'ospedale, parla dell'ospedale di Urbino, e qui in sostanza Tempesta dice che è impossibile, sintetizzando un po', che è impossibile tenere gli ospedali covid free. Però la buona, tra virgolette, notizia è che il sistema sta reggendo. E soprattutto continuano a lavorare le sale operatorie. Questo è importante perché una volta chiuse quelle, qui mi riferisco a Pesero ovviamente, una volta chiuse quelle poi diventa un problema. Però sul fatto di tenere gli ospedali covid free è davvero quasi impossibile. Anche Senigallia, titolo del Corriere Adriatico di oggi, SOS Medici pronto soccorso in apnea, il reparto covid è arrivato al limite, tra pochi giorni due pensionamenti, mancano dieci professionisti, pazienti positivi, l'ospedale addirittura esplode. Urbino, stessa Solfa, ospedale, in campo il Ministero della Difesa, Salta Martini dice la sanità della Marina Militare, ha monitorato il presidio, Storti dice arrivato un incaricato, Gambini prudenza sui numeri. E poi ancora, sempre sulle pagine dei quotidiani, parlando di covid, morta la cantante Norris De Stefani, era stata ricoverata con problemi polmonari prima a Pesero, poi a Urbino e Fossombrone, fu la prima italiana a esibirsi in Unione Sovietica. Anche in questo caso, è chiaro che il covid ha accelerato, diciamo, un po' tutto quanto, ma ultimamente, negli ultimi tempi, appunto, Norris De Stefani, 83 anni, nota cantante pesarese originaria di Pantano, da circa un anno, aveva problemi polmonari e poco dopo Natale era stata ricoverata all'ospedale di Pesero, quindi al nosocombo di Urbino, a causa del covid. Poi trasferita a Fossombrone, dopo è martedì sera, è deceduta. Il funerale si terrà venerdì 15, alle ore 15, nella chiesa di San Carlo, in via Nitti. E sotto, l'ultimo saluto anche all'imprenditore Giombini, sempre a Pesero, anche lui ucciso dal covid, aveva 79 anni, niente funerale per le restrizioni, domani ci sarà la tumulazione. Vallefoglia in lutto, invece, per Max e Sabrina, oggi funerale di Massimo Colarizzi a Montecchio, domani l'esequio dell'Andruccioli a Morciola, due persone che erano molto conosciute, appunto, a Vallefoglia. Da quello che ho inteso, leggendo l'articolo, non c'entra nulla il covid, purtroppo sono stati portati via dai tumori. Quindi, insomma, ecco, il funerale di Sabrina, andiamo a leggere così, anche per le persone che volessero in qualche modo partecipare, il funerale di Sabrina Andruccioli, in Serafini, 50 anni, mamma di due bambini, sarà domani, alle ore 15, nella chiesa di Morciola. Poi c'è il sindaco Ucchielli che parla, appunto, di questa scomparsa, di queste due persone che, insomma, hanno perso la vita così prematuramente. E questo è l'articolo che troverete sulla pagina del resto del carino di oggi. Andiamo adesso invece a vedere, a pagina 11, tamponi rapidi, qui siamo a terre, no, sempre a Vallefoglia. Tamponi rapidi, dal 16 al 21, invito i cittadini a farli. Daniele Acciaroni, medico e assessore a Vallefoglia, dice, proteggiamo la comunità. Due le postazioni Asur, a Gradara e a Montecchio. Il test sarà veloce e gratuito. Poi tamponi a tutti, anche per tutti, a Tavernelle e a Orciano. Si svolgerà il bocciodrome, la palestra comunale con lo screening di massa per i comuni di Colli al Metauro, Terre Roveresche e altri. Gli orari ve li abbiamo già detti. Poi, che fine ha fatto l'influenza? I malati sono cinque volte in meno. Nell'anno del Covid sono quasi spariti i virus classici, ecco i dati della provincia di Peso Urbino e nelle Marche. Barchiesi, dice, primario di malattie infettive, è l'effetto del distanziamento e della crescita dei vaccinati. Dunque, vendiamo, ecco qua la notizia di cui vi parlavo poco fa, il dottor Claudio Mari, che è il titolare della farmacia San Salvatore di Peso, dice che vendiamo molti meno antipiretici, ma il 40% in più di ansiolitici. Dal punto di vista economico-commerciale si vende senz'altro di meno, dice Mari. Il calo dei preparati contro l'influenza si attesta intorno al 30%, mentre l'aumento degli psicofarmaci è salito del 40%. E questo segnala un disagio piuttosto diffuso nella popolazione. Da Valcesano, Covid in crescita, chiuso lo screening di massa, ora tocca agli altri comuni. Siamo a Mondolfo, l'agenda dei test rapidi per Orciano, Mondavio e Pergola. Poi sotto, anzi, sull'altra pagina di Senigallia, in arrivo le telecamere ITEC per ragionare i ride dei vandali. Il comune di Senigallia prevede un investimento di 60 mila euro, sarà coperta anche l'area del Bianchelli. Poi il nuovo ponte dedicato alle vittime della lanterna, la Giunta ha modificato il nome da 2 giugno ad Angeli dell'8 dicembre. Quindi questa è una notizia, tra l'altro, ecco, interessante. Questo ponte che si doveva chiamare 2 giugno, in realtà adesso si chiamerà Angeli dell'8 dicembre. Gli Angeli dell'8 dicembre sono quelli appunto che hanno perso la vita nella tragedia della lanterna azzurra. Paolo e Francesca sul carro del Carnevale di Fano. Siamo sulla pagina di Cattolica e Gabicce del Corriere Adriatico. Nel nome dei malatesti, il Gradara ha commissionato un'opera in cartapesta per l'anno dedicato a Dante. Dopo quella di Pesaro, per la quale è stato realizzato il bellissimo carro di Rossini in occasione del 150esimo della scomparsa del noto compositore, ora è la volta del comune di Gradara, che per celebrare l'anno dantesco ha commissionato un carro su Paolo e Francesca. Nella fotografia vedete i sindaci di Fano, Massimo Seri e quello di Gradara, Filippo Gasperi. Andiamo adesso sulla pagina di Fano del Carlino. Screening, Fano non sfonda, si testa il 20%. La chiusura della campagna voluta dalla Regione fa emergere un'adesione in linea con Pesaro, con picchi fino al 27% a Cartoceto e a Marotta. Se riboccia Ricci, no soluzioni occasionali, meglio lavorare per il rientro in sicurezza nelle scuole. Poi nelle centraline compaiono scritte negazioniste, l'assessore Brunori le fa subito rimuovere, l'anonimo imbrattatore si è firmato ex legio, nome già comparso sui manifesti elettorali alle regionali. E poi bimbi al gelo, ora caldaia ok e a settembre li trasferiamo, aggiustato il guasto all'asilo Seneca con la nuova scuola di Cucurano, il disagio cesserà. Ed ora chiudiamo con questa che vuole essere anche una notizia di servizio, intanto ve la buttiamo lì. Allora, WhatsApp, tutti abbiamo WhatsApp, WhatsApp sul telefono, quasi tutti abbiamo WhatsApp sul telefono. Ora, WhatsApp cambia le regole della privacy, fuga di massa verso la rivale Signal. Signal è un'applicazione come WhatsApp ma che ha, diciamo, più privacy. Siccome dall'8 febbraio verranno condivisi, WhatsApp condividerà più dati personali con Facebook per spingere forte sulla pubblicità, che cosa sta succedendo? Che si sta passando tutti a questa nuova applicazione. Si chiama Signal. Qualcuno poi è indeciso tra Signal o Telegram. Come fanno TV, vi dico già che, chiaramente, Telegram è già un canale che utilizziamo per dare tutti gli aggiornamenti in tempo reale, quindi se non vi siete iscritti al nostro gruppo per avere le notizie, fatelo, perché è sempre utile avere a portata di mano senza star lì a sfogliare tutte le volte i social. Ecco, lì arrivano le notizie come ce le scambiamo noi in redazione. Detto questo, passeremo anche noi, tempo tecnico, anche di farvi prendere l'abitudine, per comunicare con noi non potrete più usare WhatsApp, perché fanno TV ha deciso di togliere WhatsApp, almeno stando così le cose, poi se cambieranno potremo anche decidere di rimanere, ma al momento abbiamo deciso di toglierci da WhatsApp e passare su Signal. Quindi intanto andate sugli store, scaricatelo, così conoscete un po' l'applicazione e poi da lì ripartiremo con più privacy, anche se la privacy nel mondo in cui viviamo è davvero un eufemismo. Ci fermiamo, grazie per averci seguito, stasera occhio alla notizia alle 20.30. Vi aspettiamo, arrivederci. Grazie a tutti.